E' ancora polemica a Bologna dopo la giornata di guerriglia urbana fra il corteo dei centri sociali e le forze dell'ordine scoppiata sabato nelle vie del centro. Prima in via Castiglione quando il corteo voleva raggiungere l'incontro con il governatore della Banca d'Italia Ignazzo Visco, poi in via Garibaldi quando ha provato a entrare in contatto con il commizio di forza nuova. In entrambi i casi sono stati lanciati fumogeni, ordigni esplosivi ai quali polizia e carabinieri hanno risposto con cariche. I feriti sono sei carabinieri, prognosi tra i due e i venti giorni, 13 poliziotti tra i sette e i dodici giorni per perforazione del timpano. Anche fra i manifestanti ci sono stati alcuni feriti e contusi. Le bombe carte, le bottiglie contro i lavoratori in divisa non hanno mai risolto alcun problema, ha commentato il portavoce della procura Walter Giovannini, che ha lanciato vernice e altro contro le forze dell'ordine. Voleva umiliarle, non ha raggiunto il suo scopo perché i volti dei carabinieri senza casco e quelle divise imbrattate esprimono solo tanta degnità e compostezza, dice il portavoce della procura. La violenza è stata condannata anche dal sindaco di Bologna, Merola. La manifestazione che aveva tra i suoi avversagli, il presidio di forza nuova, ha detto non ha nulla a che fare con l'antifascismo, secondo Merola, anzi è la sua negazione. È in atto una grave deriva e sopraffazione di violenza contro la quale occorre reagire con fermezza e senza indugi. Valuteremo, conclude il primo cittadino, le convenzioni in essere con le sigle che risulteranno essere state parte attiva negli sconti di ieri perché non può essere tollerato che il Comune abbia rapporti con associazioni che praticano violenza e illegalità.